Forza Giuseppe, io faccio sempre il tifo per te. Grazie ancora per questa video recensione. Vi presento quella che è stata la prima video recensione di Giuseppe Dilena, il microfono Afex 460. Un ottimo microfono, un ottimo rapporto qualità-prezzo, sicuramente delle voci professionali. Conosco anche personalmente degli studi di registrazione grossi che lo utilizzano proprio come microfono di punto, insomma la prima scelta sulla voce. Quindi puoi vedere da queste immagini quella che è l'impressione che Giuseppe ha di questo microfono. Nel video di approfondimento andrai a vedere anche un po' più nel dettaglio le varie specifiche tecniche e sentiremo anche che cosa ha da dire Giuseppe un po' anche come feeling personale con questo microfono. Buona visione, ti invito a vedere questo video e anche il video successivo. Ciao da Francesco. Un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Giuseppe Dilena, del Latin Studio di La Terza, provincia di Taranto. Puoi visitare la mia pagina profilo scuolasuono per ulteriori dettagli. Bene amici, in questa videoguida parleremo dell'Apex 460. Eccolo qui, un bel microfonone da studio. E' l'imitazione del Telefunken M16. Lo possiamo incontrare sui vari store online a partire da 240 euro fino a 380. Mentre il Telefunken lo troveresti a meno di 1.400-1.500 euro. Quindi c'è una bella differenza. Cominciamo a dire che questo è un microfono valvolare, a condensatore e multipolare. Qui lo vediamo nella sua valigetta a corredo dove incontriamo il suo cavetto multipolare a 7 pin. Ovviamente il microfono nel suo astuccio. Poi vediamo un filtro o cuffia antivento. Il bagno. Un ammortizzatore che serve per eliminare le vibrazioni dell'asta. E abbiamo qui un box di alimentazione dove possiamo vedere che c'è una manopola che ci permette di selezionare la sua figura polare. Dopodiché abbiamo due connettori. Uno viene connesso al microfono direttamente con il suo cavo a 7 poli, mentre l'altro è un Canon dove viene collegato a un Lumpre. Sul pannello posteriore incontriamo un interruttore per accendere il box di alimentazione, un connettore per la corrente e infine abbiamo un selettore per selezionare il voltaggio. In questo caso è impostato su 230 e l'altra opzione è 110 per chi vive negli Stati Uniti. Bene, nel prossimo video vedremo la risposta in frequenza delle varie figure polari e qualche consiglio di applicazione. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento dovrai effettuare la registrazione gratuita. Ciao!